investimenti per principianti come iniziare a investire da zero istruzioni passo passo e investimenti per principianti come iniziare a investire e investimenti per principianti ho annotato lo stesso video simile all'argomento ha chiamato di nuovo e affrettati per i principianti su come iniziare a investire nudia istruzioni passo passo è come un investimento per i manichini cosa è per i manichini è molto forte dettaglio investimento dettagliato è anche meglio del solito come iniziare a investire meglio dire come iniziare a investire per i manichini per ancora più dettagli e così iniziamo come iniziare a investire con gli zeri la prima cosa che dovresti avere sono i soldi se li hai ti consiglio di acquistare cripto valute il più popolare perché bitcoin itereum per bitcoin test e monete varie dot coin dove altro investire ti consiglio di investire prima di tutto su te stesso perché ereditizio puoi avere un'idea del genere per investire in azioni che sono convinto tester a sopportare c max i nostri strumenti sono disponibili questo è un tema del genere consiglio temi di domande se investirai molte volte in azioni tirate fuori con i tuoi trader poi venderai con promozioni con cose che le banche di kinga hanno tale è quello che ti consiglio di me stesso investi anche bevi sempre e se già lo sai si può dire che siamo diversi corsi e sarai ascoltato oppure potrai in qualche modo creare una professione senza programmi solo un gruppo di account assemblato per pubblicizzare il tuo secco cosa fai e altro ancora quello che fai e quello che ami di più e piantare particelle in te stesso investi 100 dollari qui ho già registrato un video puoi trovare consigli consigliati per investire nel settore immobiliare è sicuro dove non una serie che c'era un ritorno esatto dal 100 per cento di sicurezza depositi che non ti servono mentalmente devi solo rimuovere una banca stabile ci sono due banche per me devi scegliere tu stesso privat 24 per adattarsi ai depositi o lei è una banca è una nuova banca è la pubblicità è stata oltre alla banca tv un sacco di annunci anche su internet circa 24 è stabile l'investimento ovviamente consiglia tutto tranne i soldi per una berlina se è così le donne ucraine hanno almeno dei dollari qualcosa quindi tra l'altro mi occupo di questo me per lavoro che tengo dall'età di 13 anni e 5 anni ne sono passati 6 attraverso mille grivne da 1000 a 2000 sono ibridi pochi ma sicuri abbiamo guadagnato migliaia di grivne se investire 25 anni 6 possono essere raccolti se ancora i codici di professione sono facili da creare sui depositi in generale si stanno sviluppando selvaggiamente poco take away beh guarda tu stesso e prendilo ho investito buon trucco per tre mesi tre mesi non 9 grivne ulteriormente lavorare a maglia lì commissione non cerchi un dollaro la che i parenti poveri sono pochissimi ma se si conta il don gius abbiamo 20.000 grivne e se dollari importanti allora questo è più tempo non meno se contiamo migliaia di grivne può essere 20 volte di meno e di meno di più può anche essere così 20 volte principi sono confuso piove così ora il deposito è di 500 grivne mille chiavi 800 chilometri per lavoro denaro per 3 mesi significa 9 auto 417 640 16 per 4 e quindi cigno per circa 9 917 917 rudemente parlando mi sono confuso beh in generale le posizioni li sono sicure nella zona influenza si per principianti non cancellare investimento in cripto valuta lavoro di più l'intera menzogna traduzione di cinque anni per considerare che è meglio depositare in qualche modo valuta dal dollaro diventerò il terzo posto ovviamente il frame sarà un deposito di due dollari e la prima cripto valuta legami dal tipo che cuciniamo in legami se conduciamo il paradiso dove l'azienda ottiene una parte di questo potere aziendale solo se investi qui ti danno sai che anche il legame dei pezzi è una cosa utile da portare ovunque per acquisire esperienza per ora andiamo tutti alle istruzioni notturne fino alla seconda parte ciao 917 Warren Buffett è il nostro più grande investitore 1017 tempo si ha investito mille dollari la sua azienda ha gli albori della sua esistenza ora che mille diventerebbe 17 milioni di dollari come ha fatto Buffett a diventarlo riuscito tutto questo grazie a investimenti intelligenti e la cui regola principale aderito a sentiamo cosa sono Buffett stesso racconta quando assumiamo i lavoratori che stiamo cercando persone con tre qualità fondamentali per noi abbiamo bisogno di persone intelligenti abbiamo bisogno di essere proattivi o energico e abbiamo bisogno di decente e se non c'è decenza allora energia della mente rovinare la compagnia se improvvisamente capisci persona disonorevole è meglio che lui era ancora pigro schietto di cui non hai bisogno mente disonesta lavoratore energico gli investitori sono esposti al semplice debolezze umane sono facili eccitati a giocare in borsa e dopo aver guardato indietro loro di solito parlo così l'anno scorso io ha fatto un buon profitto quest'anno voglio ottenere di più quindi suppongo prenderò un prestito beh tu stesso capisci qualcuno pensa che io non abbia giocato in borsa l'anno scorso ho guadagnato il mio vicino condivide molti soldi anche se chiaramente non è più intelligente credo che quest'anno non rischierò in generale con il senno di poi ovviamente quando le persone guardano al passato vedono come gli investitori hanno fatto un sacco di soldi negli ultimi anni decidono anche loro cogliere l'occasione acquistare azioni e poi di più le azioni sono ancora più grandi e il prezzo sta salendo ed eccole qui guarda indietro guarda quei soldi non li ha guadagnati affatto e sono venuti a l'investimento in prelievo è un'idea così così e allo stesso tempo generalmente non si preoccupano delle azioni le aziende che acquistano è facile incredibili li fanno pangram ho incredibili opportunità imparato a comprare per quantità in 49 o in 50 quando i mi ha riconosciuto mi ha colpito molto e io cercando quello che ora si chiama mozziconi di sigaretta questo approccio alle azioni sulla base di un corso molto semplice immagina di camminare per strada cercando sigari in giro mozziconi di sigaretta ed è così brutto bagnato disgustoso pulito sollevi ancora le nuove serrature allungare la mano verso il cattivo e buttarlo via è gratuito ma anche in caso di promozione a buon mercato e continui a cercare il prossimo mozzicone di sigaretta ancora una volta si trascina ed eccomi qui se ne occupò per molti anni bug si puoi guadagnare qualcosa per questo ma un film serio non ce l'avrebbe fatta grandi guadagni hanno bisogno di comprare azioni aziende prospere così oggi preferirei comprare azioni in una buona compagnia più costoso di una cattiva compagnia più redditizia ho credenze antiquate penso che tu possa aspettarti solo un reddito da quelle aree in cui capisci quando dico che comprendendo qualcosa non lo faccio voglio dire capisco perfettamente il prodotto che l'azienda produce tutto in così voglio dire che capisco processo economico di questa società e come appariranno tra 10 o 20 anni per esempio io in generale immagina cosa accadrà all'economia aziende di gomme da masticare aziende di gomme da masticare elastici rigli dopo 10 anni internet non ha alcun effetto su la gente mastica una gomma non è niente in quest'area non cambierà quindi se hai grande investimenti nel mercato delle gomme da masticare e e quindi offri una gomma alla menta glassata menta dolce con aromi fruttati lo stesso sarà sul mercato tra 10 anni ovviamente non posso dare numeri esatti azienda fluviale reddito il futuro ma anche non ci saranno sorprese la valutazione della società in questo modo è cosa io chiamo la mia specializzazione capisco che cosa l'azienda capisce capisco i processi economici in cosa suoi vantaggi competitivi i nostri più grandi errori il mio errore non è nostro cosa sono di più solo sbagliato quindi è così i nostri più grandi errori il mio errore non è nostro cosa sono di più solo sbagliato quindi è così come possibili accordi ed era in quelli aree che conoscevo bene erano in specializzazione in combattimento e tuttavia i non ha fatto nulla e questi fastidiosi gli errori non vengono visualizzati da nessuna parte la nostra azienda berkshire ha colpito ne persi almeno 5 a causa mia miliardi di dollari a causa di errori 20 anni fa prendi solo un mutuo federale associazione incontrata dall'azienda alcuni problemi e potremmo non comprerei tutte le sue azioni quasi per niente preoccupato se fosse mike russell perché in questo campo e diritti e no nessun motivo per aspettarsi che raggiungerò reddito significativo da microsoft o vendita di fave di cacao o qualcosa di simile ma non ho familiarizzato con il federale sufficientemente associazione ipotecaria e ha sprecato una buona occasione e momenti come questo non li vedrai mai rendi contazione standard sugli investimenti conosco la verità il costo di tali errori e il profano non sa nulla a meno che io stesso non ho rapporto a volte sai che vuoi confessare qui è importante ricordare cosa è meglio fare e pentirsi cosa non fare e pentirsi la vita ci offre costantemente opportunità e dovrebbe essere utilizzato se hai la possibilità di partecipare qualcosa di grande da non perdere prima se non è un'occasione particolarmente grande tutto ancora non perderlo usalo opportunità mentre ci sono non ci sono garanzie che la vita di domani ti offrirà più scelte origini delle opzioni per quanto riguarda le aziende che apparteniamo a noi completamente non lo facciamo venderò non importa per quanto li promettiamo se parliamo del nostro azienda dolciaria sisco ed ele vogliono notizie gonfie e simili anche se vogliamo comprarli a prezzi esorbitanti non lo facciamo vendendo forse sbaglio in questo domanda ma per me è quello appartiene a barcer completamente in questo modo l'approccio sembra essere abbastanza patch per la mia vita abbastanza vino lasciare un'eredità la carità passa tutto il resto sono dipendenti dell'azienda contare sulla nostra costanza e su tutto vendere solo perché qualcuno ha salutato ho le banconote davanti al naso tutto qui come vendere i tuoi figli per alcune banconote nuove di zecca non lo facciamo lo faremo ed è importante che i nostri partner sapevamo che non saremmo andati per una vendita del genere il rispetto è costruito su questo con le azioni alcune aziende a cui aderiamo lo stesso approccio se non avessimo abbastanza soldi ci siamo aggrappati a ciascuno possibilità allora forse qualcosa noi avrebbe fatto diversamente sì ma ora noi vendere le aziende solo come ultima risorsa quando qualcosa è cambiato in peggio lato può guidare o gli indicatori economici sono fortemente sono cambiati e questo accade ma non lo siamo assolutamente venderemo azioni solo perché sono aumentati di prezzo o qualcosa del genere tipo domanda dal pubblico per favore ciao signor boffin ne ho due corti domande 1 come determinare l'interno prezzo delle azioni ebbene il valore intrinseco è costituito da diversi indicatori diciamo voi sapere cosa ci sta preparando il giorno a venire e puoi prevedere quanto guadagni ricevere dalla società di oggi un certo giorno in futuro da questo importi sottraggono il tasso di interesse e ottenere il valore intrinseco del titolo francamente l'unico motivo investi e investi i tuoi soldi e la prospettiva di ottenere più di investi correttamente l'intera idea di investire questo si costruisce e quando studi o obbligazioni chi investirà è facile calcolare quanto profitto c'è puoi sempre guardarli informazioni disponibili quando tu pagare gli interessi quando le azioni pagherà ovviamente questi tassi di interesse cambierà influenzerà il prezzo delle azioni di più di più di più Grazie a tutti.